Con l'accensione dell'albero si inaugura il cartellone delle feste per Siena. Qual è l'augurio per la città e l'impegno per tutti e 40 giorni di festa? Innanzitutto voglio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per arrivare a questo risultato, tutti gli operatori commerciali che hanno sostenuto questa iniziativa, nei quali auguro di trascorrere un periodo che sia fruttuoso dal punto di vista del loro lavoro, così come auguro a tutta la città di trascorrere 40 giorni sereni in cui chi verrà a visitare Siena la possa trovare accogliente e possa trascorrere delle giornate di festa in un anno che è stato molto difficile perché questo possa essere di augurio per il prossimo anno.